allora questa è la sede estraibile della cassetta pucci e queste qua oltre con la guarnizione oltre a tenere la sfera ha anche la funzione di scarico di sicurezza perché se io faccio entrare acqua di qua mi scarica di lì se io adesso vado a accendere vedete come scarica di lì e idem se faccio così se lo giro l'ho girato adesso accendo e dunque queste due bacchettine fanno anche quando il livello dell'acqua se continua a entrare acqua nella vaschetta queste poi esce di qua e va in scarico continuo vabbè ci vediamo alla prossima vedeteci